Bara bapara Buongiorno tesoro Buongiorno un cavolo Ecco un'altra giornata di quelle Cosa c'è? Niente Pensavo che avessi qualcosa Niente a posto Ma dove vai? Torno immediatamente qui Dai racconta che cosa c'è Perché sei arrabbiata? Non sono arrabbiata No no infatti si vede che non sei arrabbiata Assolutamente Sembra un cagliurino di quelli dolci Non mi ascolti mai Ma come non ti ascolto mai? Ti ascolto Allora stamattina Non mi hai dato il bacio del buongiorno Sai cosa vuol dire? No 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 Allora, mi hai ascoltato? Hai capito qualcosa di quello che ti ho detto? No, assolutamente non ho capito nulla. Però, amore, diamo lo stesso. Ciao. Un caso disperato. Un caso disperato.